210.000 euro per far diventare cavo ai tirreni una delle città più video sorvegliate d'Italia a rivendicare questo particolare primato per garantire maggiore sicurezza ai cittadini il consigliere delegato alla polizia locale e ai sistemi di telecontrollo Giovanni Del Vecchio che con il sindaco Vincenzo Servalli ha presentato il piano di ampliamento della rete di telecamere sul territorio metelliano. Dal primo impianto del 1999 con 7 telecamere remotabili si è passati all'attuale sistema di 60 occhi elettronici di cui 52 già in uso, 24 remotabili, 23 fisse, 5 le ZTL ed inoltre 8 saranno attivati a breve, un DOM, 3 fissi e 4 street control con attenzione non solo al centro ma anche alle periferie. Possiamo dire che forse Cava è il comune più video sorvegliato d'Italia perché abbiamo coperto quasi tutti i punti della città e non è stato semplice perché Cava ha ben 17 frazioni e 10 località quindi arriviamo circa a 30 punti e soprattutto la grossa novità che non so quanti comuni ne siano adottati sono gli street control fissi cioè dei portali che sono installati in maniera fissa sui principali barchi di accesso della città, circa 4 ce ne manca soltanto un altro che consentono di monitorare il passaggio dell'autovettura leggendo in tempo reale il numero di targa e consentendo alle forze di polizia locale, poi vedremo anche alle forze commissarie di polizia di Stato di verificare se l'autovettura sottoposta a revisione, se è assicurata o se è di provenienza illecita, furto. Quindi diciamo che in più abbiamo tra l'altro potenziato una zona particolare di Cava, Via Onofrio di Giordano, che è quella strettamente prospiciente agli sbocchi sul triccerone ferroviario anche perché lì, sollecitati anche da forze politiche di minoranza, si registravano numerosi furti in abitazione e si lamentava uno scarso controllo. Abbiamo messo quattro telecamere. La spesa circa 210 mila euro e sono soldi, così come prevede la legge, attinti dai vari verbali che abbiamo fatto nel corso di questi ultimi anni su infrazioni del codice della strada. In più, la grossa novità, andremo a coprire l'ulteriore varco di accesso alla città e metteremo altre telecamere come, attingendo sempre da questo fondo particolare, ma in più faremo un patto, i cosiddetti patti di sicurezza sindaco-prefetto che consentirà al Comune di Cava di accedere ad ulteriori finanziamenti da investire sulla sicurezza urbana, sul controllo e la prevenzione anche di fenomeni di micro-criminalità sul nostro territorio.